In Italia l'emergenza abitativa è diventato un problema sempre più attuale e crescente. Quando perdi la casa perché non riesci a pagare il mutuo comincia una discesa nella povertà da cui è difficile risalire. Questo è particolarmente vero a Torino dove gli sfratti sono il doppio della media nazionale e aumentano del 10 per cento ogni anno. Le città fanno fatica ad affrontare questa emergenza e farlo a per loro costi molto alti. Homes for All si propone di intervenire prima che l'emergenza si avvii, si propone di acquistare gli alloggi prima che vadano in asta, di sdebitare il debitore, di ristrutturare l'immobile e di consentire alle persone di restarci dentro ad un affitto sostenibile. Per rispondere a questo problema è nata Homes for All, l'housing sociale che promuove la rigenerazione urbana attraverso l'intervento di investitori privati. Homes for All è una start-up costituitasi per dare attuazione al progetto d'impatto Torino al diritto all'abitazione si innova. Le aree del processo sono quattro. Raccogliamo capitali da privati interessati ad investire in un progetto ad alto impatto sociale, acquisiamo gli immobili a basso costo, li riqualifichiamo e li mettiamo a norma, accompagniamo gli inquilini in emergenza abitativa con un programma di inserimento nelle nuove abitazioni, con un affitto calmierato e in collaborazione con i servizi sociali. Prevenire gli sfratti e riqualificare gli immobili significa fare rigenerazione urbana e sociale, casa per casa. La nostra forza è avere un team qualificato per ogni area di processo e seguire un modello replicabile in tutta Italia. Il prossimo step sarà incrementare le acquisizioni degli immobili. attraverso la piattaforma crowdfunding e lita ti offriamo la possibilità di diventare socio di un progetto ad alto impatto sociale e con un potenziale di crescita in tutta Italia. Ti vogliamo in OMS4ALL in tutte le fasi del processo. Investi in OMS4ALL per avere un rendimento etico, ad alto impatto sociale, con un progetto replicabile in tutta Italia. A presto!